Formazione largamente rimaneggiata per l'Imperia, che deve fare a meno di Costantini e Castagna, oltre allo squalificato Martelli. Primo tempo a varro di occasioni degne di nota da segnalare. Al ventitresimo spinge Zunino, che per la formazione ospite cerca il gol con un tiro sul primo palo, ma la conclusione esce di poco a lato. E risponde subito l'Imperia con una grandissima azione, terminata con un passaggio rasoterra della fascia sinistra di Faedo, verso il centro dell'area di rigore. Velo di Moscatelli per Mella, che arriva in corsa e colpisce al volo il pallone, che indirizza al centro della porta, incolpevole Alberico in uscita sul primo palo. Al quarantasettesimo occasione per Gaggero, che approfitta di un errore difensivo nero-azzurro per colpire il pallone a tu per tu con trucco, che però si salva in uscita bassa. E con i piedi devia in calcio d'angolo. Al settantaseiesimo vicinissimo al gol Costantini, che su calcio di punizione dalla fascia sinistra, prova un tiro cross che nessuno tocca, ma la traiettoria finisce fuori per pochissimo.